Buonasera a tutti e benvenuti alla cerimonia di inaugurazione della 62esima mostra della ceramica. Sicuramente ricorderete il mese di maggio scorso. Una devastante alluvione ha colpito la regione Emilia-Romagna e in particolar modo la città di Faenza. Il comparto produttivo è stato messo in ginocchio. Le ceramiche hanno subito un notevole danno. Avete visto le scene in tv, ci sono stati interi laboratori artigianali e anche alcuni musei completamente sommersi e distrutti dal fango. La città di Faenza si può considerare la capitale della ceramica. E' colei che presiede l'associazione ICC, l'associazione italiana Città della Ceramica. Un'associazione riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico ed è un'associazione alla quale Castellamonte ne fa parte, con altrettanti 48 comuni italiani. Ed è proprio un segno di solidarietà, di vicinanza agli artisti e agli artigiani faentini che l'amministrazione di Castellamonte vuole dare e vuole rendere omaggio e dedicare loro la 62esima mostra della ceramica. La 62esima mostra della ceramica riserva anche una sorpresa, vero sindaco? Una sorpresa perché dopo un'accurata ristrutturazione il prestigioso Palazzo Botton riapre le porte ai visitatori, si presenta in una veste elegante ed accoglie, pensate, 130 opere di artisti, artisti che provengono dall'Italia e dal mondo. Sono artisti che hanno partecipato alla quinta edizione del concorso Ceramica & Love premio Città di Castellamonte. La sala consigliare invece di Palazzo Botton ospita un omaggio al paese straniero che quest'anno è il Marocco. E poi ci sono anche le opere della città di Matera nell'ambito delle tre terre canavesane, ci sono spazi pubblici, spazi privati che parlano di ceramica, ci sono le botteghe artigianali, dei talentuosi artigiani locali, ci sono la rotonda antonegliana, ci sono iniziative molteplici, iniziative che sono organizzate dalle associazioni locali e che durano sino al 10 di settembre. Quindi si parla di arte, di artigianato, si parla di storia, si parla di cultura. Ma prima, prima di conoscere questo palcoscenico artistico, il saluto da parte del primo cittadino, il sindaco, il dottor Pasquale Mario Mazza. Grazie, grazie, buongiorno a tutte e tutti, grazie Marinella. Intanto io ringrazio davvero tutti i colleghi che sono qui presenti, colleghi sindaci del Canavese, ma permettetemi di fare il saluto ufficiale alla città di Faenza in quanto destinataria della dedica di questa nostra mostra della ceramica con la quale abbiamo iniziato a lavorare assieme ad alcune iniziative che sono in corso per far sì che insomma anche la solidarietà e la dedica non sia solo una mera dedica, ma sia anche qualcosa di concreto. Ci stiamo lavorando, ci sta lavorando l'associazione italiana di città della ceramica, ci stiamo lavorando come città di Castellamonte e poi ne vedrete insomma il prosieguo. Permettetevi, dicevo prima, di salutare però una serie di miei sindaci colleghi o componenti di giunta a partire dall'assessore alla cultura, adesso la frase, la san Marinella di preciso, del comune di Savona. Dov'è Nicoletta? Eccola qua. Nicoletta Negro, vicepresidente dell'associazione italiana città della ceramica e assessore al comune di Savona. Permettetemi di salutare anche la sindaca di Celle Ligure. Noi siamo stati ospitati come città di Castellamonte, i nostri artisti sono stati ospitati a Savona nel primo weekend del mese di giugno, siamo stati trattati benissimo da tutta la baia della ceramica e insomma abbiamo anche lì iniziato un rapporto che porterà ad avere i suoi frutti non solo alla città di Castellamonte, non solo alle tre terre canavesane, ma io credo a tutto il canavese. Su questo io sto vedendo che gli amministratori del canavese stanno iniziando a lavorare assieme e a lavorare bene direi assieme, quindi buon lavoro a tutti e grazie per essere qui. Saluto e ringrazio i nostri partner istituzionali a partire dalla Regione Piemonte. L'assessore Vittoria Poggio oggi ci fa l'onore di essere qui presente e porterà il saluto ufficiale da parte di Regione Piemonte, io la ringrazio davvero, grazie Vittoria per essere presente qui oggi a Castellamonte. Città Metropolitana di Torino, la Fondazione CRT, SMAT, Società Metropolitana Acque Torino, l'Associazione Italiana Città della Ceramica, l'Unione Montana Valle Sacra, e anche qua ci sono diversi miei colleghi sindaci che dà una grossa mano anche economica alla città di Castellamonte per quando riguarda la mostra della ceramica. CNA, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino, vi porto il saluto del Direttore Generale Guido Bolatto e del Presidente Gallina. Confartigianato, Tre Terre Canavesane, l'ho detto poco fa, con i comuni di Aglie e San Giorgio abbiamo iniziato un percorso che sta proseguendo e che poi durante le prossime manifestazioni con il Sindaco di San Giorgio e con il Sindaco di Aglie vi illustreremo. però vi do solo alcuni titoli, Venezia, Firenze, Matera, quindi queste sono le prossime tappe. E poi ringrazio l'Istituto 25 Aprile Faccio, il nostro liceo, ringrazio il pulmino della reciprocità offerto da città metropolitana e ottenuto per ultimo, perché molto importanti, le nostre due ospiti l'ambasciatore, scusate, la console della Romania, Joanna Georgias e come è stato detto prima, la console del Marocco che è il nostro ospite ufficiale, il nostro paese straniero ospite ufficiale della mostra della ceramica. Grazie, grazie per essere qui. Adesso vi elenco invece i nostri sponsor locali, lasciatemi fare un piccolo cappello introduttivo. L'amministrazione comunale di Castellamonte ha deciso di parlare con tutti gli imprenditori della città. Sono andato di persona a trovarli uno per uno, abbiamo chiesto un aiuto, un aiuto morale ed anche un aiuto economico e questi aiuti sono arrivati. Pertanto io davvero ringrazio i nostri imprenditori locali. Le ditte che hanno contribuito sono Alberto Massucco Champagne, l'architetto Antonio Besso Marchese, sono in ordine alfabetico. Atena Ortopedia, Bottino Legnami, Bracco Costruzioni, CM Service, Caldarena Lorenzo in Pianti Elettrici, CEFI, CIMO, COGEIS, DHD, ECP Pegaso, Edil Canavese, FAS, Federazione Ambiente e Sicurezza, che ha fornito anche l'aiuto economico per uno dei premi, Formento, HDI Assicurazioni, KG di Sabrina Giacoletto, Marvel Lavorazione Meccaniche, Masso Sport, Musat, Pasticceria Goretti, che ringrazio sia Pasticceria Goretti che Tonino, la tenuta roletto per il rinfresco che poi si terrà dopo in rotonda, Plastic Legno, Preauto, SC Edil, Certec, Space 2000 e appunto come dicevo prima tenuta roletto. Ringrazio i componenti della giuria del concorso Ceramics in Love, poi Beppe magari dirà qualcosa su questo. Ringrazio la presenza dei nostri consiglieri regionali, Monica Canalis, Gianluca Gavazza e il consigliere locale Mauro Fava. Penso di non aver dimenticato consiglieri regionali, vero? No? Perfetto. Bene. Dov'è Gianna? Ecco qua, benissimo. Allora abbiamo anche l'onore e il piacere di ospitare l'assessore della città di Torino Gianna Pentenero che è sempre peraltro sempre molto presente sul nostro territorio e alla mostra della ceramica in particolare. Grazie. Bene, io chiuderei qua. Chiuderei qua ringraziando le due entità che mi sostengono più di tutti. Uno è la struttura del comune. Tutti gli uffici, in particolare l'ufficio cultura, ma tutti gli uffici hanno lavorato affinché la mostra e lavorano tutti gli anni affinché la mostra della ceramica venga realizzata. L'altra è la mia amministrazione comunale che è qui presente quasi in toto e pertanto sono loro le mie due colonne. Poi ce n'è una terza ovviamente che sono mia moglie e mia figlia che mi sopportano in maniera e mi supportano. Grazie poi alla nostra sindaca del Consiglio Comunale dei Ragazzi che è sempre stata presente ed è sempre stata molto brava e attenta a quello che succede in città. Guardate che non è da tutti. Grazie veramente Viola per tutto quello che fai e per come ci hai seguito. Non mi dilungo oltre. È vero che ho ringraziato l'amministrazione comunale? Sì. Benissimo. Non vorrei. Saluto perché ho visto arrivare da poco anche il professor Vallino, preside del liceo, 25 aprile faccio. Anche lui quest'anno noi siamo nei lavori, siamo nei lavori al liceo, abbiamo anche lì, stiamo facendo un lavoro che porterà alla fine a un quadro economico di un milione e quattrocento mila euro. Il liceo sarà messo in sicurezza, sarà efficientato dal punto di vista energetico. Anche lì stiamo lavorando. Mi fermo qua. Vi dico solo questo. Intanto finalmente usufruiamo del nostro arco di nuovo intero dopo quasi un anno e mezzo di riparazioni effettuate a seguito dell'incidente famoso. Vi dico solo la mission che riguarda la ceramica del 2024. Lo ha detto prima Marinella. Abbiamo ristrutturato, sistemato Palazzo Botton. Adesso dobbiamo fare il museo. Che a me non piace chiamare museo, piace chiamare raccolta civica di Terre Rosse. Però noi dobbiamo fare questa cosa qua nel 2024. Dovremmo fare questa cosa qua e la mia idea, come vi ho sempre detto, è quella di fare una parte stabile che è Palazzo Botton, una parte invece aperta che sono tutte le nostre opere che abbiamo in città. E infine a me piacerebbe fare dei laboratori esperienziali. Ma su questo ci lavoreremo e ci lavoreremo soprattutto anche con la regione Piemonte. Quindi grazie a tutti voi e buona mostra a tutti. Il saluto da parte dell'assessore alla cultura del comune di Castellamonte, Claudio Betaz. Io vi ringrazio tutti per aver sfidato il caldo di agosto ed essere qui presenti all'inaugurazione. Come ogni anno noi cerchiamo di usare la ceramica, che è il nostro materiale nobile, per creare legami. Legami col passato e lasciatemi ricordare che questa sarà la prima edizione della mostra della ceramica senza Miro Gianola che ci ha lasciati all'inizio di quest'anno e lo ricordiamo sempre con affetto. Legami col passato nella lunga tradizione ceramica castellamontese, legami nello spazio, nella geografia con gli altri comuni dell'Associazione Italiana Città della Ceramica, ospitando il Marocco e le sue affascinanti ceramiche smaltate. Legami attraverso le tre terre canavesane con Matera, legami con Faenza e la solidarietà per la tragedia che l'ha colpito, ma anche ospitando Mirko De Nicolò che è uno dei ceramisti faentini più importanti. Legami col territorio, qui testimoniati dalla presenza dei tanti amministratori. Legami tra la comunità castellamontese che è fatta innanzitutto dai ceramisti di Castellamonte che ancora oggi con impegno e con fatica portano avanti la tradizione ceramica del nostro comune e il saper fare e quindi racchiudono con le loro creazioni e le loro opere un'arte antica rinnovandola quotidianamente. Legami con tutta la comunità castellamontese che si adopera, come ha fatto con questi mesi il curatore, il professor Giuseppe Bertero, per la buona riuscita di questa manifestazione dall'allestimento alla sorveglianza e ringrazio i tanti volontari che ci permettono di tenere aperti i punti espositivi per arrivare alle tante associazioni che si sono occupate degli eventi collaterali che riempiranno le sere e i fine settimana da qua fino al 10 settembre. Nel ringraziarvi di nuovo veramente tutti, vi suggerisco di prendervi il tempo per visitare con calma tutti i punti espositivi perché questa mostra è veramente ricca e vi suggerisco anche di parlare con i ceramisti, con gli artisti, gli artigiani che espongono, di fargli domande e perché no, di acquistare, portarvi a casa un ricordo in ceramica di Castellamonte perché la ceramica sia sempre più anche dal punto di vista produttivo un punto forte di Castellamonte. Ultima nota di colore, il sindaco ha detto che ci sarà il buffet, se non avrete il timbro per Palazzo Botton e il centro congressi Martinetti non vi daranno da mangiare, quindi non accalcatevi subito al buffet dopo. Grazie a tutti e buona mostra. È l'assessore regionale alla cultura, al turismo e al commercio, Vittoria Poggio. Grazie per l'invito soprattutto al sindaco che ogni anno crea questo evento, abbiamo avuto dei momenti difficili, quelli della pandemia, però la comunità di Castellamonte, il sindaco, la sua giunta, l'amministrazione di Castellamonte ha sempre lavorato per far crescere questa iniziativa, quindi la regione è con orgoglio che qui, io vi porto anche i saluti del presidente Cirio, chiaramente dalla regione come ha già menzionato il sindaco, ci sono diversi consiglieri, quindi voglio dire la regione è vicina a Castellamonte ed è vicina anche a tutti i sindaci che hanno imparato a lavorare, a fare strategia comune e io ne vedo davvero tanti qui, questo è un buon segnale, è un segnale che il territorio è vivo, è un territorio che davvero fa vivere la cultura ma anche le imprese e quindi questi sono gli elementi importanti che si devono trasmettere per attrarre turismo ma anche per generare economia sul territorio perché sono gli obiettivi che le comunità ci chiedono e quindi questi sono davvero un modo di operare a cui io faccio il plauso a tutta l'amministrazione, a tutti i sindaci presenti, a tutte le persone e le associazioni e anche a tutti gli imprenditori che si sono resi disponibili per una buona riuscita di questo evento che ogni anno cresce perché quello che ha raccontato il sindaco e l'assessore alla cultura dimostrano come la visione strategica continui davvero ad elevare la sticella di qualità perché il fatto di avere intanto invitato il console del Marocco che quindi è il paese che viene ospitato per affinità di produzioni artistiche di ceramica abbiamo anche il console della Romania quindi voglio dire c'è un interesse che viene trasferito anche oltre i confini non solo di Castellamonte non solo della regione non solo d'Italia ma anche al di fuori di quelli che sono i confini nazionali e queste sono le strategie giuste per cui davvero un plauso sindaco io posso rassumere giustamente perché avete detto tutto ringraziando anche il curatore che ovviamente è quello che si spende per una riuscita dal punto di vista artistico dell'evento per cui davvero Roberto Bertero grazie perché questo è un lavoro che riesce a far partecipare proprio grazie a quella che è un progetto anche realtà che sono di altre città della regione Liguria di altri territori che lavorano sull'eccellenza artigianale su quelli che sono prodotti artistici come abbiamo la presenza del sindaco di Savona ma poi ne ha menzionati altri sia l'assessore della cultura quindi questo è il buon lavoro trans regionale e anche trans diciamo nazionale che si fa questo è il vero operare quindi i concetti che io voglio ricordare sono di questa mostra che sono quelli molto importanti voi state valorizzando il made in Italy si parla sempre più di made in Italy di eccellenze di imprese che producono oggetti d'arte qui abbiamo la stufa che le stufe sono famose in tutto il mondo quelle di Castellamonte che quindi sono le vostre eccellenze i vostri lavori culturali diciamo ma anche artigianali questo è l'importante poi un altro elemento importante è quello di aver dedicato ovviamente agli amici dell'Emilia che hanno vissuto momenti tragici con quella devastante alluvione quindi un segnale di umanità di cui il Piemonte va orgoglioso e noi come regione vi ringraziamo perché il Piemonte è sempre stato solidale magari con quel riservo sabaudo però quando c'è bisogno il Piemonte risponde e poi il fatto di essere capaci attraverso questa mostra che diventa un contenitore di cultura avvicinando anche le scuole quindi i giovani quindi questi sono elementi importanti anche il fatto di generare economia e di far conoscere le tradizioni quei saperi che non vanno dimenticati ma vanno ricordati e soprattutto sostenuti ed è quello che vuole fare la regione nel riconoscervi e apprezzarvi tutto il lavoro che avete portato avanti questi anni e che continuate a far crescere proprio grazie a mostre che non fanno altro che parlare bene al mondo intero di quello che il Piemonte sa fare per cui davvero grazie a tutti e mi raccomando continuate così perché siete sulla buona strada grazie e buona mostra il saluto da parte della vicepresidente dell'AICC per il Nord Italia e anche assessore alle politiche comprensoriali della cultura e del turismo della città di Savona Nicoletta Negro Buon pomeriggio a tutti Allora io sono qui per una serie svariata di motivi ne elenco solo tre velocissimi il primo è questa fascia che porto al corpo e che vedo su tante persone accanto a me vi chiederei di soffermarmi su questo colpo d'occhio bellissimo far parte di questa comunità è un onore ma anche una grande responsabilità e qui vedo tanti amministratori che si occupano di piccole comunità perché voi siete tante piccole comunità che avete capito una cosa e fare rete è l'unico modo per non dico vivere ma almeno sopravvivere in una valle come questa quindi ecco io ho veramente il plauso ed è uno veramente dei motivi perché ogni volta io mi colpisco dal numero dei sindaci che vengono qui a sostegno di questa manifestazione ma immagino perché dietro c'è un lavoro di relazioni, di lavori, di progetti di amicizia, di amicizia di anni ecco quindi grazie perché io credo che la politica oggi si possa fare solo ed esclusivamente così immagino, immagino perché non vi conosco provenienti da realtà anche politiche di origini anche tanto diverse che però avendo un obiettivo comune riescono a lavorare insieme quindi io questo è uno dei grandi motivi per i quali io sono qui e con orgoglio vi porto i saluti della ICC che è il secondo motivo l'ICC è stato spiegato bene è un'associazione che raccoglie comuni che hanno in comune appunto questa grande tradizione della ceramica che è storia, che è patrimonio ma che è anche industria che è anche economia che vuole essere industria ed economia ecco e anche qui la relazione noi ci conosciamo con il vostro sindaco da un po' di anni e proprio a giugno l'ha detto bene prima la città di Savone, la baia della ceramica che con lo spirito col quale voi oggi siete qui anche noi qui in Liguria i quattro comuni fanno sistema e si sono inventati la baia della ceramica quindi Savona, Albisola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure ecco insieme abbiamo fatto questa grande manifestazione e ospiti sono stati artisti proprio di Castellamonte è stata una bellissima esperienza che spero ogni anno cresca e si sviluppi e crei insomma non solo cultura ma anche indotto ecco quindi questo è il nome anche di un'amicizia che negli anni poi cresce e ti permette di fare grandi cose e il terzo motivo è perché a vostro sindaco, il sindaco di Castellamonte e a Beppe Bertero non si può dire di no è impossibile dire di no a queste due eccezionali persone che ci mettono tanta energia tanta competenza tanta voglia di fare quindi io auguro un bene immenso a questa comunità in nome della ceramica e di tutto quello che di bello possiamo ancora realizzare insieme grazie un saluto da parte del console generale di Romania Torino Ioana Georgias grazie buonasera torno sempre con piacere a Castellamonte chi mi ha preceduto nei discorsi stava parlando giustamente di alcuni legami che si creano in occasione dell'organizzazione di questo splendido evento in quanto rappresento la comunità romena che è presente in Castellamonte in Piemonte pure in Liguria e in Val d'Aosta posso essere testimone del fatto che è vero questi legami si creano anche con queste occasioni sapete che la Romania è stato paese ospite d'onore durante l'edizione dell'anno scorso della mostra internazionale della ceramica di Castellamonte per noi è stato un onore per noi per il paese e per la nostra comunità che è foltissima e ben integrata nel territorio però al di là di questo devo confessare che questa partecipazione ha avuto un eco molto solido pure nella stampa nella stampa romena nella stampa romena in Italia e qui abbiamo anche i rappresentanti di una rivista bilingue italo-romena rivista IR che ha dedicato tantissimi articoli proprio su questo evento questo evento che rende vivo un paese il paese di Castellamonte rende viva la comunità castellamontese però anche la nostra comunità romena che fa parte di essa e quindi mi pregio di ringraziarvi vivamente per averci coinvolto l'anno scorso ma pure quest'anno perché so che è fondamentale per continuare a fare rete come stava dicendo chi mi ha preceduto poi mi pregio di ringraziare per tutta la collaborazione che si è svolta durante tutti questi durante tutti questi anni tra l'amministrazione di Castellamonte e il nostro ufficio consolare il consolato generale di Romania a Torino se vi ricordate l'anno scorso stavo lanciando un invito al nostro sindaco l'invito di mettere in piedi un accordo di gemmellaggio tra Castellamonte e una città della Romania ecco siamo sulla strada giusta perché stiamo sul punto di far rendere formale questo accordo quindi non ci sono soltanto le dichiarazioni si agisce anche e si agisce con tenacia con determinazione e con questo spirito di grande amicizia che si crea poi non mi dilungo oltre ringrazio tutte le autorità presenti vorrei dire una parola anche in quanto decano del corpo consolare di Torino perché il paese ospite a questa edizione è il Marocco e abbiamo qui il console generale del Marocco la mia collega sua eccellenza dottore Senari sapete che a Torino abbiamo tre consoli tre consolati di carriera tre consolati generali di carriera e ha anche tanti altri consolati onorari i consolati di carriera sono quello del Marocco quello della Romania e quello del Peru in quanto rappresentante di questo corpo consolare che è molto attivo e ha in anima di poter contribuire a portare avanti a questo scambio di cultura mi auguro e mi permetto se mi concedete di lanciare un altro invito un'altra sfida di poter continuare su questa strada di coinvolgere le varie comunità presenti sul territorio e poter continuare su questa strada internazionale con questo sguardo molto attento internazionale perché ci fa crescere insieme e vi posso assicurare che tutto il corpo consolare di Torino sarà più di disponibile e felice a partecipare grazie ancora e quindi il console generale del regno del Marocco in Italia la signora Laila Enari internazionale a pu avere lieu grazie a una coordinazione a di nuovi c'è questa diversità che fa valore le belle poterie del Maroc. Né da un territorio molto anciano, questa poteria marocchina sempre di tutte le particolarità che può fare valore. Le villi di Fese, Meknes, Marrakech, Safi, Salé, Tétouan, Azemmour sono molto conosciute per loro poterie. Parmi le poterie riputate del Maroc, il y a la celebre poterie di Tamgrout che guarda ancora tutti i segreti. De même, la poterie di Rif, che si democratise di più e più e presenta la particolarità di essere una poteria esclusivamente femminile, altrimenti destinata ai obietti utili della casa. È oggi una poteria molto ricerchata. Io ringrazio i organizzatori e i participanti e io voglio a tutti un'agriabile après-midi. Grazie. 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 Grazie per tutti i maires di Canavese. Grazie, ma collega, la Consiglie generale della Roumanie. Grazie. Grazie a voi anche. Grazie per la cooperazione. Grazie. 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 Grazie a voi. note per non dimenticare nessuno e per essere il più possibile telegrafico. E quindi comincio subito con i ringraziamenti, Ufficio Cultura della città di Castellamonte, alle volontarie e ai volontari che al centro congressi Martinetti hanno atteso pazientemente i trasportatori con le opere del concorso Ceramising Love provenienti da tutte le parti del mondo. Trasportatori che ve li raccomando alcuni. Un particolare ringraziamento a Renato Giovannini di PubliAlfa, a Jacopo Giovannini e un grazie speciale a Massimo al suo contributo professionale, paziente ed infaticabile. Prendi quell'opera, spostala qui, metti lassù. No, qui non va bene, facciamo e così. Grazie a Luca Chiartano che con infinita pazienza ha realizzato ogni tipo di cartellino per segnalare le opere al Palazzo Botton, ma soprattutto grazie per il bel catalogo della mostra. Grazie a Guglielmo Martin per il suo bel manifesto della sua 62esima mostra della Celamica e della mostra della Rotonda Antonelliana. Grazie a Maurizio Grandinetti per i suoi accurati restauri, alle opere del concorso e quelle che sono arrivate un po' rotte grazie ai trasportatori alle volte. E soprattutto anche per aver restaurato il bel pannello di Enrico Carmassi che ci ha dato incomodato l'intesa San Paolo. Grazie a Giovanni Cordero per la sua puntuale, valida ed efficace collaborazione, suo il saggio sul catalogo dal titolo, la ceramica e sempre e ovunque scultura. Grazie alla giuria, al suo presidente onorario Gian Giorgio Massara, al presidente Matteo Zauli, alla commissione tutta composta da Antonio Balestra, Marco Basso, Giovanni Francesco Cordero, Mara Defanti che vedo là, Angelo Mistrangelo che è in vacanza e per il primo giovane Alessio Stefanoni del CNA che vedo lì. Questa mostra, l'è già stato detto, l'abbiamo dedicata a Faenza, a tutta l'Emilia Romagna, ai nostri amici di Faenza che hanno visto distrutto gravemente danneggiate le loro botteghe, dal museo Carlo Zauli, alla bottega di Andrea Salvatori, alla casa pressoché distrutta dell'amico Beppe Olmetti, segretario dell'ICC di Faenza. A tutti loro il nostro particolare e unanime sostegno. Un particolare ringraziamento agli artisti di Faenza presenti nella mostra, Fiorenza Pancino con le sue candide sculture nella rotonda antonelliana, Mirta Morigi e De Tramasi con la loro partecipazione hanno dato lustro al concorso Ceramising Love, Mirko De Nicolò con la sua mostra al Palazzo Botton, Gli Angeli e la Memoria, tre opere in ceramica e 16 disegni ispirati alla terra, agli artisti e ai ceramisti, agli uomini e alle donne di Castellamonte. Sono presenti altresì le opere degli studenti del liceo artistico Faccio realizzate durante un workshop dello stesso De Nicolò, referente del progetto, la professoressa Sandra Baruzzi. Il restaurato e bel Palazzo Botton si apre con un pensiero forte a Castellamonte dal titolo Castellamonte, terra, arte, vita. Con l'intervento di Maurizio Berto Datto che introduce l'esposizione con opere di Angelo Barengo, la statuaria in terracotta, decorazione e utensili vari compresa la famosa tufeia. A destra un particolo omaggio ad Angelo Pusterla, un cantore di questa argilla rossa, qui con le sue particolari sculture in terracotta dal colore rosso vivo. Pusterla è un vero artista e il suo genio riesce ad unire la perizia tecnica con la capacità di trasmettere un'emozione, ne scaturisce una bellezza che viene compresa da tutti e che non necessita di spiegazioni. Questo è quello che scrive Maurizio Berto Datto, suo nipote. Le mostre nella sala d'ingresse sono immerse nell'argilla rossa di Castellamonte, cortesemente offerte da Corrado Camerlo e dal padre Giose compreso. Le sale successive sono tutte dedicate alle opere del concorso Ceramese in Love 2023, giunto alla sua quinta edizione. 130 le opere pervenute da tutta Italia e da ben oltre 22 diverse nazioni del mondo. Francia, Turchia, Taiwan, Tunisia, Finlandia, Danimarca, solo per citarne alcune. Visto il numero molto elevato di opere, si prega cortesemente di prestare attenzione nel camminare fra di esse, a non urtarle inavvertitamente. Grazie. Attenti alle borse. Dal piano terra si passa al piano nobile e qui l'omaggio al Marocco. L'anno scorso avevamo fatto l'omaggio alla Romania e abbiamo pensato bene di fare quest'anno l'omaggio al Marocco. Qui grazie al sostegno di sua eccellenza Youssef Balla, ambasciatore straordinario plenipotenziario del Regno del Marocco in Italia, della console per il Marocco di Torino, la signora Leila, siamo riusciti ad avere un buon numero di ceramiche molto preziose e speciali, come le tagine e le ceramiche verdi di Tamegrude. Queste grazie all'artisanat di Marocco e al mondo della ceramica marocchina di Rashid di Torino. Davvero che lo potete incontrare in corso Giulio Cesare a Torino ma sopra ci sono dei biglietti da visita perché è più facile da raggiungere Rashid che non quella in Marocco. Davvero speciale questo incontro che si è verificato fra il cibo e l'artigianato del Marocco e di Castellamonte. Questo testimonia la vicinanza fra i popoli. Le tagine hanno molto in comune con la nostra artufeia, mentre le ceramiche verde di Tamegrude hanno molto in comune con le nostre antiche terrecotte, quelle in vetriate con la ramina. Potrete poi fare il confronto fra quelle marocchine e quelle di Castellamonte grazie alle terrecotte della collezione Nigra Pesci, cortesemente prestate per l'occasione. Dalla sala dell'omaggio al Marocco si può entrare ad ammirare il balcone dell'arte, una graditissima scoperta offerta dal recente restauro del palazzo. Sempre al piano nobile la mostra di Mirko de Nicolò, Gli Angeli e la Memoria, tre ceramiche e sedici disegni. I disegni sono stati in parte rovinati dall'alluvione e Mirko ha dovuto rifare. Poi abbiamo la scuola di Castellamonte che si trova nella sala accanto, in un grande spazio, dove sono esposte le terrecotte realizzate con l'argilla di Castellamonte dalla scuola media Cresto, insieme agli studenti del liceo artistico Felice Faccia. Le ceramiche della scuola elementare e quella della scuola materna. Con questa presenza si desidera davvero stimolare non solo la creatività degli studenti, ma anche la passione per questa bella ed utile materia. Ci aspettiamo nuovi artisti, nuovi ceramisti. del progetto Le tre terre canavesane Matera, un'installazione a rappresentare la transumanza. Si chiama Attraversamento Meridiano. Che fai, interrompo? Vado avanti? Tanto mi si sente. Attraversamento Meridiano. È il titolo ad opera di Damiana Spoto, Raffaele Pentassuglia. Grandi, colorati, bellissimi fular. Scendono del sfetto ad emozionare il visitatore. E poi troverete un numero di animali delle podoliche, razza bovina della Basilicata. Le vedrete, non sto neanche a spiegarle. Molto bello. Poi, nelle altre sale, sono state riallestite le opere della collezione Botton, da Carlo Zauli, a Nino Caruso, Luigi Mainolfi, Enrico Bai, Liplaca, Anna Torriero e Miro Gianola. Alle nostre spalle le stufe di Castellamonte. Nella rotonda dell'Antonelli troverete le sculture di Patrizio Bartoloni da Montelupo Fiorentino, Sandra Baruzzi di Castellamonte, Gioseca Merlo di Castellamonte, Daniele Chechi di Castellamonte, Patrick Rili dalla Francia, Giacomo Lusso dalla Baia della Ceramica, Fiorenza Pancino da Faenza, Guglielmo Marten da Castellamonte, Illi Placa dalla Baia della Ceramica, Roberto Perino da Castellamonte, Brenno Pesci da Castellamonte, Carlo Sips dalla Baia della Ceramica, Paolo Vannucchi del Canavese, lui lavora a Chivasso, ma ormai è un artista assolutamente internazionale, Nino Ventura. Nino Ventura presenta gli uomini faro. Tutta la mostra è bene che la vediate di sera, perché è illuminata, è tutta un'altra cosa. Al centro congressi le mostre sui fischietti, il restyling della Rotonda Antonelliana, realizzato dagli ex studenti dell'Iceo Artistico, Renato Cottini di Torino, si tratta di un sogno che Don Angelo ed io abbiamo condiviso per dare un nuovo e significativo aspetto alla Rotonda, che sia un luogo principalmente di incontro, magari sedersi all'ombra di un albero, avere delle fresche fontanelle, un luogo espositivo, un luogo per concerti, senza trascurare ovviamente le funzioni religiose. Le passo gli appunti. Assessore Poggio. Appena fuori Castellamonte, la fornace Pagliero di Daniele Chechi, con la mostra Cheramos, della Galleria Goliarte di Savona, con due artiste presenti, Giovanna Crescini e Renza Asciutto. Sono poi altresì visibili, la sala della musica, con la personale di Brenno Pesci, di Castellamonte, al cantiere delle arti Via Educa Castellamonte, e le opere di Sandra Baruzzi, Guglielmo Martain, Davide Quagliolo. Alla fornace Pagliero troverete anche una bella personale di Nino Ventura e le opere di diversi artisti dell'Associazione Ceramisti. Potrete visitare la ditta La Castellamonte, la bottega di Corrado Camerlo a Sant'Anna Boschi, la ditta CL, queste opere qui, e la bottega di Maurizio Grandinetti, che ancora ringrazio per essere non solo un bravo ceramista, ma anche un grande restauratore. Un grazie a tutti i ceramisti qui di Castellamonte e dintorni per il supporto che ogni anno danno a questa mostra con la loro professionalità che raggiunge non solo i dintorni, ma raggiunge tutta l'Italia e ormai tutto il mondo. Evviva Castellamonte e evviva la ceramica! E passiamo! Allora, passiamo alla premiazione del concorso, ma professore, dobbiamo accelerare i tempi perché ci aspetta Rai 3 nella rotonda antonegliana, quindi chiamiamo i premiati, partiamo dal terzo segnalato, l'autore è Anna Matola di Albissola Marina, il titolo dell'opera è Ortus Virentium. Eccola che arriva! Venghi, venghi, Anna Matola! Le motivazioni sono indicate accanto alle opere esposte a Palazzo Bottoni. Poi, il secondo segnalato? Il secondo segnalato, l'autore, Illi Placa, titolo dell'opera Fra Terra e Luna. Lo ritira Nicoletta Negro. Lui è di Savona, Baia della ceramica e ci sta più bene. Ok, poi. Il terzo segnalato, il primo segnalato, Manon Lacoste, arriva dalla Francia, dalla Provenza, Provenza. Il titolo dell'opera è Dea Hartor. Manon Lacoste? Ehi sì? No, n'espa' ehi sì. Ok, glielo manderemo. Il terzo premio, autore, Gabriele Ivan di Battista di Saronno. Dov'è? Lui c'è, lui c'è, ma ha fatto disperare due giorni di montaggio. Ammirate la sua installazione. Il titolo dell'opera, La città sospesa. Secondo premio, dalla Romania, Vlad Basarab. Il titolo dell'opera è Un Folding, Svolgimento. Dov'è Vlad? Arrivato. Mi sa che non è arrivato. Mi tira il premio, l'attestazione, il corso del rumeno. Un'opera molto bella. E adesso il primo premio. Primo premio? Non so se ci sarà. No, neanche io. Allora, l'autore è Chen Chung Yu, arriva da Taiwan. Non c'è. Il titolo dell'opera è Momentary, Splendor. Posso dire? Glielo faremo avere. l'attestato. Sì, che si tratta di una acrobazia, è una scultura, una acrobazia in porcellana. La potrete ammirare al Palazzo Botton. E poi abbiamo il premio giovani intitolata a Silvana Neri, una signora straordinaria che ha lavorato insieme a Roberto Perino nella ditta alla Castellamonte e insieme hanno costruito quella ditta e Silvana ci manca sempre. Questo è chiaro. E allora che cosa possiamo... Allora, intanto grazie, grazie Bertero, grazie alla città di Castellamonte per questo impegno profuso in difesa di questo mestiere quasi sacro che ha a che fare con il fuoco e con la terra e che ha origini antichissime. io chiamo qui Roberto Perino che è stato compagno di vita di Silvana Neri associata della CNA di Torino dirigente nazionale rappresentante alle più alte cariche della Camera di Commercio del sistema camerale italiano. Insieme avete fatto tantissime cose Roberto tra cui questo arco che forse oggi possiamo ben dire è uno dei simboli della città di Castellamonte e che oggi possiamo rivedere finalmente nella sua meraviglia. Il premio Giovani è un modo per ricordare la figura di Silvana e per incentivare i giovani ad avvicinarsi ai mestieri della ceramica. In questo la CNA che è l'associazione dell'artigianato del territorio provinciale ma fortemente presente in quel territorio distrutti devastati dall'alluvione l'Emilia Romagna che sono un po' il cuore del sistema associativo a Faenza noi abbiamo tantissime imprese che si sono ritrovate davvero come si dice dalle nostre parti a carte 48. Allora premiamo una coppia di ceramisti chiedo solo aiuto alla tecnologia l'opera si chiama Abracadabra la coppia è Denis Inberti che è qui presente ritira il premio siamo a Pozzo Leone in provincia di Vicenza l'anno scorso avevamo premiato una ceramista di Savona me lo ricordo giovanissima quindi chiamiamo Denis Inberti che in coppia con Roberto Azzolini hanno realizzato un'opera che è esposta a Palazzo Botton Denis Inberti vieni qua si avvicini al curatore io intanto che innanzitutto Denis Inberti insieme a Tasca fanno un lavoro splendido con questa cooperativa Abracadabra praticamente sostengono ragazzi e ragazze diversamente abili e attraverso il disegno e la ceramica gli fanno creare delle opere spettacolari il designer si chiama Roberto Azzolini quindi ritira il premio Denis Inberti ed ecco la targa a favore solo che facciamo una foto anche con Beppe questa la presenza di CNA Torino al fianco dei ceramisti come tradizione da 12 anni anche per la mostra del gioiello della ceramica che invitiamo tutti a visitare al centro Martinetti grazie ricordo questa sera alle ore 21 in questo splendido scenario che è la Rotonda Antonegliana un concerto di musica classica e adesso un invito a spostarsi all'inizio della Rotonda Antonegliana per il taglio del nastro e poi buona visita a tutti buonasera